70 milioni di utile lordo realizzato in Italia nel 2010, il 45,8% in più rispetto al 2009. È il dato che testimonia l'eccezionale crescita di Gas Natural, la multinazionale del settore energetico che conta oltre 20 milioni di clienti nel mondo. In Italia la compagnia è presente dal 2002 in 7 regioni del centro-sud, comprese Puglia e Basilicata. Proprio con la regione Puglia, nel febbraio 2008, la Fondazione Gas Natural strinse il suo primo accordo in Italia per la salvaguardia dell'ambiente. E sulla Puglia Gas Natural continua a puntare con successo. Nel 2010 ha superato i 100 mila clienti, con 31 comuni serviti e quasi 127 mila punti di fornitura. Meno consistenti, ma comunque significativi, i numeri della Basilicata, con 517 clienti e 717 punti di fornitura.